No, no, le chiedo una cosa, questo mi deve togliere una curiosità, penso qualche altro in studio, ma questa fesseria di Veltroni, che ogni volta diceva non nomino Berlusconi, Daviloso ha detto Berlus, poi se corretto ha detto il leader dello schienamento a noi avverso. No, quello poteva essere anche un gioco, però è vero. Ha pagato? Che gioco? Ha pagato o no? Non nominare l'avversario. Quello che ha pagato, quello che ha pagato, a mio avviso, e pagherà in futuro, perché nessun altro... Il popolo della sinistra era entusiasta di questa trovata proprio, e vai, non l'hai detto neanche stavolta, ma dai, su!